Belen ha pubblicato alcune foto dove ha fatto una gita in barca con i suoi figli Stefano e il suo cagnolino mostrando il tutto su Instagram ed è proprio tra questa carrellata di foto che ne troviamo una molto tenera dove vediamo Stefano e Belen abbracciati a guardare al di là del mare e sembra che il ballerino la vinghia come a volerla proteggere a fare in modo che non possa più sfuggire dalle sue braccia infatti De Martino adesso conduttore di punta direi due in una passata intervista ha dichiarato che la passione tra lui e Belen non era mai terminata e che i due si sono sempre rispettati l'un l'altro per amore di Santiago anche quando entrambi avevano storie con persone diverse dopo aver pubblicato la foto in questione sono piovuti una marea di messaggi da parte dei fan della coppia che sono rimasti senza parole dopo aver visto lo scatto che tanto desideravano a confermare che il loro amore è davvero nuovamente sbocciato. Siamo tutti felicissimi per te Stefano ma vi auguro veramente di trovare la vostra stabilità questi alcuni dei messaggi scritti dai fan sul post di Belen Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!